Ciao ragazzi, allora sapete che a me io non parlo di questi argomenti e non mi va neanche di parlare di questi argomenti sul caso Suarez, passaporto, addirittura intercettazioni di paratici, a parte che la procura della repubblica ha dichiarato che la Juve, ai fatti, la Juve non c'entra nulla, quindi la Juve non rischia nulla. Adesso vedremo cosa deciderà la merdizia sportiva, tra prezzi giustizia sportiva, vedremo cosa succederà? Ma io spero che non accadrà nulla perché andranno a sbattere contro un muro tutti quanti. Questa è l'ennesima puttanata, l'ennesima falsità come la storia degli Ultrasi che alla fine non è successo in nulla cosmico. Però purtroppo ragazzi c'è una parte di tifoseria dei prescritti che se la melano, addirittura vengono fuori, devono radiare la Juve, la Juve deve andare in Serie B, deve pagare, ma di che cosa? Di che cosa? Che la Juve sull'esame di Suarez non c'entra un cazzo. Che paratici ha chiamato Suarez dicendo che non puoi venire la Juve, non ti possiamo tesserare per l'iter burocratico e per un tempo l'intempistica che va oltre 6 ottobre. E devono radiare la Juve per una telefonata che ha fatto paratici a Suarez per dire che il giocatore non veniva tesserato. Siccome sono 9 anni che vinciamo e diamo fastidio e voi non riuscite a vincere, ad arrivare ai vostri obiettivi, a vincere i trofei, allora cosa fate? Quando c'è in mezzo la Juventus, su una cosa che non esiste, perché ai fatti, ai fatti, la cosa non esiste, non sussiste. Voi vi attaccate a falsità, vi credete di essere i maestri di onestà, che a voi avete stile. Intanto ci sono migliaia e migliaia di stile da poter imparare e solo uno stile non si può imparare, addirittura non si può comprare. Cosa che voi non avete è lo stile di Juventus? Quindi, quando parlate di Juventus, prima di dire puttanate, guardate in casa vostra, guardate la società di merda che avete, che avete debiti su debiti, e addirittura si dice che in Cina Su Ling non paga i giocatori, quindi silenzio e muti, silenzio e muti, addirittura Su Ling ha perso sponsorizzazione in Premier League, quindi zitti, zitti. Poi vi volevo far ricordare una cosa, cari onestoni dei miei coglioni, che voi vi credete tanto onesti, ma alla fine siete dei pagliacci dal 1908. Avete giocato un anno e mezzo con un giocatore con il passaporto falso, fiduazioni false, doping, ma soprattutto spionaggio ai vostri giocatori. Siete la feccia e la vergogna del calcio italiano e voi vi permettete di venire da noi a darci lezioni di onestà. Mandatevi un affanculo prescritti di merda, che dovrete essere radiati dal calcio per aver inventato una farsopoli che non esisteva. Ma che cazzo volete prendere per il culo? Ma che cazzo volete prendere in giro? Pagliacci di merda. Siete dei pagliacci dal 1908. Siete dei pagliacci dal 1908. E quando questa storia finirà, finirà, perché siccome da nove anni che vinci, da nove anni che vinci e dai fastidio, e quando sta cosa finirà con nulla cosmico, voglio vedere le vostre facce di merda, dire, però dovevo non radiarla, vedremo, vedremo, perché tanto voi, voi, siccome non avete argomenti, siete come i giornalai e i media, che pur che non hanno notizie e quando esce una notizia sulla Juve fanno notizia per venderla, e non hanno notizie su cui parlare, però quando esce fuori la parola Juventus viene fuori la bomba mediatica. Voi siete così. Poi quando sta cosa finirà con nulla cosmico, voglio vedere se avete ancora il coraggio di dire le cose che state dicendo adesso, perché, e ve lo ripeto, lo stile che ha la Juve non si compra. E voi siete dei pagliacci, pagliacci. Guardate in casa vostra che c'è da piangere, c'è da ridere. Allora ragazzi, intanto, iscrizione al canale, iscrizione e supportate la Juvengers Crew, Luca Totti, Gianni Bianco, Giumentino Mascherato, Atrick Boyz, Spacca Calcio Pirata, Pix Messia Bianconero, Frank Asso, Luca 65 e la New Enti ragazzi, perché se lo merita il grande Massimo Marchese. Quindi, iscrizione ai canali ragazzi, supportate la Juvengers Crew perché ce ne saranno ragazzi delle belle. Andatevene a fanculo, perché iscrivete di merda. Parole, 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 ai fatti stanno a zero, pagliacci dal 1908.